Carmine Rienzo, è arrivato un bel successo con la San Benedettese, sono questi forse i successi migliori perché pur non giocando benissimo si portano a casa tre punti. Sì, primo tempo male, secondo tempo dobbiamo riconoscere che la San Benedettese è una signora squadra, quindi siamo stati noi bravi soprattutto a mantenere il risultato perché non è che abbiamo fatto grandi cose lì davanti, però alla fine abbiamo fatto due gol, non li abbiamo fatti avvicinare e questo era importante. Dicevo tre cose fondamentali, innanzitutto i tre punti perché chiaramente vi portano sempre più in alto in classifica, poi l'ennesimo gol di Perrella che pur non toccando tantissimi palloni uno ne ha e uno lo mette dentro e poi penso che forse la cosa più bella sia il rientro di Guglielmi condito con gol dopo due anni di assenza dai campi di calcio. Sì, questa è una partita che si può scrivere nella storia proprio per questo motivo perché è diventata una festa dove soprattutto per Carmine Guglielmi, un ragazzo che è cresciuto con me e è ritornato grandicello abbastanza dopo un infortunio brutto di due anni soprattutto contento per il rientro che ha toccato i campi di calcio, ha toccato il campo da calcio, questa è la cosa che più mi... e poi per il gol che mi rende felice. Stai diventando un po' questo campionato, io devo dire che comunque il livello non è per niente male, anzi ci sono veramente belle squadre, bisogna fare i complimenti anche a questa San Benedettese che è venuta qui e ha giocato davvero una bella partita. No, ma la San Benedettese innanzitutto questi sono ragazzi che l'anno scorso hanno vinto il campionato regionale allievi e poi è una signora squadra dove programmano tutto sul settore giovanile, hanno speso dei soldi pure per mantenere il settore giovanile quindi i risultati si vedono sia dal punto di vista di gioco e dobbiamo dire di qualità dei giocatori. Noi siamo, ripeto, siamo bravi perché il nostro progetto è quello di prendere ragazzi di molte società del Molise e quindi siamo bravi soprattutto a valorizzare i ragazzi molisani.